Autore di una doppietta, una prestazione positiva, così come è stata anche nelle altre gare. A chi vogliamo dedicare questi gol e cosa commentiamo di questa partita? Dedico questi due gol alla squadra perché, come ogni settimana, abbiamo tutto in allenamento e finalmente è arrivato anche il primo gol e è arrivato anche il secondo. Spero che ne arriveranno altri. Commentiamo questa gara, è stata una gara tosta, nonostante siete stati bravi, concentrati, però come dice mister Lucchino c'è sempre ancora tanto da lavorare, soprattutto per mantenere la concentrazione. Sì, c'è tanto ancora da lavorare, ma con l'aiuto del mister e la volontà che mettiamo in campo ci troveremo tanta soddisfazione. Grazie. Mister, una bella vittoria fuori casa, un risultato importante, finisce 1 a 4 questa partita. Commentiamo un po' la gara. Sì, era una partita difficile dal punto di vista mentale perché comunque venivamo da una brutta sconfitta in casa, siamo stati bravi attratti a fare il nostro gioco. In alcuni momenti della partita ci assentiamo. Bene però il risultato, bene perché è venuto con qualche gol in più. Per cui questo certamente mi soddisfa, ma lo abbiamo ancora crescido. Quindi abbiamo migliorato qualcosina che era mancato in casa nella scorsa partita, però c'è qualcosa ancora su cui bisogna lavorare. Sicuramente bisogna ancora crescere nella gestione della gara, come ti dicevo in alcuni momenti siamo assenti. Al centrocampo mi aspetto certamente di più. Grazie a tutti.